Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata, oggi si parte con la mia collezione di DVD, non ho comprato tanti film, ho comprato più che altro dei manuali di cinema che mi servono comunque per capire un po' di più questa bellissima arte che è cinema, e purtroppo vorrei dire, sottolineo, su YouTube non siamo esperti, siamo tutti appassionati, uno solo esperto, che è frusciante, gli altri sono tutti appassionati, perché molti di noi, molti di noi, di altri canali non capiscono niente, perché idolatrare, dire che è bello Transformers oppure che l'ultimo gioassi i parchi, bellissimo, mi fa capire che oddio qua non si va neanche più oltre i gusti, è oggettivo che sono brutti questi film, però vabbè, siccome noi su YouTube siamo tutti appassionati, se volete una punta di riferimento sul cinema è frusciante, è anche vero che non mi ritrovo spesso nelle sue opinioni di cinema, di gustibus, quindi però 80 su 100 le cose che ho imparato l'ho imparata da lui, quindi. Primo film di Schwarzenegger, quindi Terminator, grandissimo film ragazzi, poco da dire, lo trovate sicuramente a un buon prezzo, lo potete prendere, anzi, ma questo anche 10 euro ci può stare, e devo dire questo, allora è un film interessante, perché comunque per l'epoca era veramente figo, ora è un po' così, nel senso, ora non è invecchiato, però a me semplicemente non è che l'ho visto 3-4 volte, non è che lo rivedo sempre, è un film che da tra in poi hanno cominciato a fare così, perché se il primo è bello, il 2 è altrettanto bello, da tra in poi hanno cominciato a fare delle cose tremende, ora ne ne faranno un altro, ne fate altri due, non mi ricordo, io sono arrivato a Terminator Salvation, che è un film che si posa solo sui effetti speciali, soltanto su quelli, non ti affezioni dei personaggi, non te ne frega niente della trama, vedi solo roba che esplode, però, il terzo con quell'altro, Cyborg, Don, è terribile, i primi due sono veramente belli, io quello che dico sempre, che se una saga la raschiano così, raschiano tutto così, è veramente di una tristezza tremenda, e io credo, spero che la finiscono con questo Terminator, perché sono quelli saghi che devono finire, basta, fine, questo è un bel film ragazzi, se lo trovate il primo potete prenderlo, perché è un film veramente gradevole, di intrattenimento, e poi è fatto bene, ha una legge ottima, la fotografia è ottima, è tutto buono, ottimo, a farne così sempre, ah, il secondo film, mi lascia perplesso, c'era un tizio su YouTube che ha fatto una recensione negativissima su questo film, e non so cosa abbia visto, probabilmente abbia visto Transformers, perché non è possibile, non sono proprio d'accordo con questo tizio, non so cosa ha fatto, tricismo guerriero, allora, se questi film non vanno presi o sere, nel senso che non sono film di truffo, sono film di intrattenimento del sabato sera, nulla di più, nulla di meno, si può prendere 5 euro per la vostra collezione, non è una cosa brutta, si aggiungerà un titolo che ci può stare il sabato, Antonio Banderas, che non è che recita perfettamente, però vabbè, nel complesso non è male, allora la trama è questa, praticamente c'è questo arabo, che è un diplomatico, viene mandato in esilio in Scandinavia, perché si è trombato la moglie del faraone, non so di quello lì, del re di Bagdad, del califo, mi sembra, del califo, e si ritrova in questo paese insieme al suo consigliere, all'improvviso vanno in una taverna, in un villaggio, in una bettola, trova questi guerrieri normanni che stanno parlando, una tizia va a chiedere il loro aiuto per sconfiggere degli esseri che pare sono invincibili, immortali, quando gli infizi con la spada non muoiono, scomparono, non so va, questi esseri, il re di loro quindi decide di andare, però prima vuol sentire una sciamana per vedere come andrà la loro missione, la sciamana dice che affinché vada bene questa missione deve esserci anche 12 guerrieri normanni più uno estero, quindi stranieri, loro quindi sapendo che c'è questo arabo dicono di andare con loro, quindi l'arabo è costretto ad andare, ovviamente lui imparerà la lingua e tutto, si ritroveranno in questo regno dove dovranno sconfiggere queste forze incredibili. Allora, io non so, ripeto questa persona che ha fatto questa recezione negativa, cosa ha visto, perché definire questo film spazzatura organica, schifoso, cioè è da ignorante secondo me, è completamente da ignorante perché non è un film bellissimo, ha dei punti un po' noiosetti, però non è neanche così terribile secondo me come vogliono dipingere, cioè è un film come tanti altri, basta a voi vedere se volete un film di intrattenimento del sabato oppure no, io sinceramente mi sono anche divertito questo film però. Allora, terzo film di Iron Man, qua ci vado abbastanza veloce, tanto si sa chi è Iron Man, si sa perché, eccetera eccetera. Concludo i tre film di Iron Man, se io detesto Iron Man, questo l'ho sempre saputo Spider-Man pure, proprio non lo sopporto, ma ho i tre film di Spider-Man, quelli vecchi, però una regia pazzesca, di Raimi, e ho questi perché Robert Downing Junior rende gradevole un personaggio che a me onestamente mi dà fastidio, quindi rende gradevole con la sua recitazione ottima secondo me, rende buono questo film, ma non perché il film di per sé ha anche dei punti un po' noiosi, cioè chi si è free si fa Iron Man, chi si salva il mondo, la solita roba tecnologica, ok, lo rende ottimo, secondo me è lui, quel sattorone qui, cioè lasciamo stare lei che vabbè a me qui nel partner manco mi piace, però è gradevole, è un film molto gradevole, solo perché c'è lui, è una recitazione ottima lui, quindi è lui che rende, è lui Iron Man, cioè lui quello che rende perfetto Iron Man è lui. Altro film altro regalo, Misery non deve morire, anche qui io ho visto gente che è massacrato e non so perché sinceramente, è un film ottimo, ho un oro psicologico di questo poveraccio che si sveglia in questa casa perseguitato da questa tizia solo perché non vuole che il personaggio di Misery muore, e quindi viene torturato, delle scene tremende, accidenti, questo veramente ti mette suspense, e devo dire che un film che dovreste avere in una vostra collezione è questo, secondo me, ma dovreste proprio, perché comunque non è un oro di quelli troppo decantati, ma comunque è un oro veramente ottimo, e anche il libro non è male, anche il libro è molto molto bello. Si conclude, secondo me, con un film, una perla del cinema, è Psycho, il film di Isco, quindi Isco che ha fatto tantissimi film, quindi la donna che ha visto due volte, gli uccelli, bla 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 bla, ha fatto tantissime cose, e il fatto che non abbia mai vinto un Oscar mi fa capire come l'Oscar vale come il 2 di briscola, non vale niente, perché se l'hanno vinto cose come 12 anni schiavo, che obiettivamente è terribile col film, poi c'è chi ha detto che è bello ma solo per un messaggio che è anche fasulo, perché vabbè, lasciamo per, poi ci farò un video a parte su quello, e non ha mai vinto un Oscar, mi fa capire come effettivamente gli Oscar sono tutti, tutti veramente dei premi inutili. Allora, upside, tutto il che ve lo spiego, è tratto anche da una serie vera di Endgame, quello Endgame, questi reachide che praticamente ammazzava la gente, se le metteva addosso, c'è proprio le scogliava, se le metteva addosso, e aveva la madre nel magazzino, perché lui non voleva che morisse. Quindi ha fatto questo Psycho, Psycho è un film bellissimo, cioè a distanza di tantissimi anni, rende ancora molto bene, la scena della doccia è incredibile, e vale a farne una ora. La messa in scena è ottima, è un film veramente ottimo, non è un decchiato di troppo, non ha punti noiosi, ti viene la curiosità di vedere come andrà a finire. Il remake che ci hanno fatto dietro, uno dei tanti credo, che ha colori in cui non hanno toccato nulla, ha solo messo il colore sulla pellicola, è semplicemente un omaggio. Quindi è un film, se non l'avete nella vostra collezione, prendetelo, io non ce l'avevo fino a questo mese, mia colpa. Vi do appuntamento alla prossima collezione di DVD, spero che vi sia piaciuta, fatemi sapere sotto quale film che vi ispira di più, io personalmente andrei su questo, e su Misery non deve morire, poi altri vabbè altri, ed è Gustibus. Detto quello vi do appuntamento alla prossima.